Il Tribunale regionale d'Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso fatto per l'annullamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di operatore socio-sanitario indetto e realizzato dall'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila. Il concorso, le cui prove sono ancora in corso di svolgimento, rimane così valido. L'istanza di sospensiva era stata presentata da uno dei concorrenti, a cui si è riunita la solidarietà di altri cento che avevano rilevato delle irregolarità durante la prova scritta dello scorso 28 luglio. I candidati avevano denunciato che durante la prova svoltasi nel palaghiaccio di Roccaraso i concorrenti avevano avuto la possibilità di entrare ed uscire dall'aula. I cellulari squillavano in continuazione, dicevano, si aveva la possibilità di copiare tre concorrenti e addirittura c'è stata data la possibilità dal presidente della commissione, si legge in una nota di uno dei concorrenti, di poter cambiare la risposta durante l'esecuzione del quiz, apponendo una scritta no sulla risposta ritenuta sbagliata, per poter poi mettere un'altra crocetta sulla risposta ritenuta giusta. In seguito a queste testimonianze, gli avvocati Mario Angelo Candido e Francesco di Genova avevano fatto richiesta di sospendere il concorso alla stessa azienda sanitaria, che però non aveva risposto all'istanza e aveva proceduto con la seconda prova orale. Un concorso con numerosi vizi di carattere formale, avevano spiegato gli avvocati. L'anomalia più rilevante era che il bando prevedesse una prova pratica individuale, consistente nell'esecuzione tecnica di manovre, anche simulate, che dimostrassero la capacità e l'abilità nelle prestazioni sanitarie. Invece, secondo gli avvocati, era stata fatta eseguire una prova scritta collettiva, consistente in un questionario con risposta multipla, che per legge è equiparato ad una prova scritta. Ma il Tribunale regionale ha rigettato il ricorso e ha dato ragione all'azienda sanitaria ASL numero 1 Abruzzo.